La padrona di casa Abitavo allora, disse Georges Carvalin, a Rue de Saint-Père, in camera mobiliata. Quando i miei genitori decisero di mandarmi a studiare lezze a Parigi, ci furono lunghe discussioni per sistemare ogni cosa. Mi era stato fissato un assegno di 2500 franchi, ma la mia povera mamma fu presa da una paura che espose a mio padre. Se gli capitasse di spendere malamente tutti i quattrini senza nutrirsi abbastanza, ne patirebbe la sua salute. Sono capaci di tutto, questi ragazzi. E così decisero di trovarmi una pensione. Una pensione modesta e comoda. La mia famiglia ne avrebbe pagato direttamente il prezzo ogni mese. Non avevo mai lasciato Kimper. Decideravo tutto ciò che si desidera a quell'età e intendevo vivere allegramente e in ogni maniera. Certi vicini a cui chiesero consiglio ai miei indicarono una compaesana, la signora Kergaran, che accoglieva pensionati. Mio padre trattò quindi per lettera con questa rispettabile signora e una sera le arrivai a casa con la mia valigia. La signora Kergaran aveva circa 40 anni. Era una donna forte, fortissima. Parlava con una voce da capitano e istruttore e decideva ogni questione con una parola netta e definitiva. L'edificio, strettissimo, con una sola porta su ogni pianerottolo, sembrava una scala di finestre o anche una fetta di casa infilata tra altre due come in un sandwich. La padrona abitava al primo piano con la domestica. Al secondo c'era la cucina e la sala da pranzo. Al terzo e al quarto alloggiavano quattro pensionati bretoni. Io ebbi per me le due stanze del quinto. Una scaletta nera, avvitandoci come un cavatappi, saliva le mie stanze sotto il tetto. Tutti i giorni, senza fermarsi mai, la signora Kergaran andava su e giù per questa spirale, affacendata in quell'alloggio a cassetti come un capitano sulla sua nave. Entrava dieci volte di seguito in ogni appartamento, sorvegliava tutto con un copioso frastuono di parole, guardava se i letti erano rifatti bene e se i vestiti erano spazzolati, se il servizio non lasciava desiderare. Insomma, aveva cura dei suoi pensionanti come una mamma, meglio di una mamma. Feci presto conoscenza con i quattro bretoni. Due di loro studiavano medicina, gli altri due legge, ma subivano tutti il dispotismo della padrona. Avevano paura di lei come un ladruncolo di frutta della guardia campestre. Quanto a me, ribelle per natura, mi sentii subito invadere da un desiderio di indipendenza. Cominciai col dichiarare di voler tornare a casa all'ora che mi sarebbe piaciuto, mentre la signora Kergaran aveva fissato l'ultimo limite a mezzanotte. A questa pretesa mi piantò addosso gli occhi chiarissimi per qualche secondo, poi dichiarò «Non è possibile. Non posso tollerare che Annette debba svegliarsi durante la notte. Non avete niente da fare fuori casa, dopo una certa ora». Risposi con fermezza. «Secondo la legge, signora, avete l'obbligo di aprirmi a qualsiasi ora. Se rifiutate, lo farò constatare dalle guardie e andrò a dormire in albergo a vostre spese, come ne ho il diritto. Sarete quindi costrette ad aprirmi o a darmi lo sfratto. O la porta, o... Addio! Scegliete!» Ponendo tali condizioni le ridevo in faccia. Dopo un'ultima esclamazione di stupore volle parlamentare. Ma io mi dimostrai intrattabile e lei cedette. Fu convenuto che mi avrebbe dato una chiave di casa, ma alla condizione formale che nessuno ne sapesse niente. L'energia dimostrata da me ebbe su di lei un effetto salutare e mi trattò ormai con evidenti segni di favore. Aveva per me attenzioni, piccole premure, gesti delicati e perfino una certa tenerezza ruvida che non mi dispiaceva affatto. Qualche volta, in un momento d'allegria, l'abbracciavo di sorpresa proprio per meritarmi il ceffone che si affrettava a darmi. Quando arrivavo ad abbassare il capo abbastanza presto, la mano di lei, ormai preso lo slancio, mi passava sopra rapida come una palla e mentre io scappavo, ridendo come un matto, lei gridava «A canaglia! Me la pagherete!» Eravamo diventati amici. Ma ecco che per la strada feci conoscenza con una ragazzina, una commessa di negozio. Voi tutti sapete cosa siano questi amoretti di Parigi. Un giorno che andate all'università, incontrate una giovane senza cappello che passeggia al braccio di un'amica prima di rientrare al lavoro. Scambiate con lei uno sguardo e provate quel piccolo tuffo al cuore che procurano gli occhi di certe donne. Sono una delle più belle cose della vita, quelle rapide simpatie fisiche che un incontro fa sbocciare, quella leggera e delicata seduzione che subite d'un tratto sfiorando una creatura nata per piacervi e per essere amata da voi. Sarà amata molto poco, che importa. È nella sua natura il rispondere al segreto desiderio d'amore della vostra anima. Sin dalla prima volta che vedete quel viso, quella bocca, quei capelli, quel sorriso, sentite il loro fascino penetrare in voi con una gioia dolce e deliziosa. Sentite una specie di felice benessere invadervi e risvegliarsi una subita tenerezza ancora confusa che vi spinge verso quell'ignota. Sembra che vi sia in lei un richiamo al quale rispondete, un'attrazione che vi incalza. Sembra che la conosciate da lungo tempo, che l'abbiate già veduta, che sappiate quello che pensa. Indomani, alla stessa ora, ripassate per la medesima strada. La rivedete, poi ritornate il giorno seguente e anche il giorno di poi. Riuscirete al fine a parlarle e l'amoretto segue il suo corso, regolare come una malattia. Dopo tre settimane, dunque, mi trovavo con Emma al periodo che precede la resa. La resa avrebbe anche avuto luogo un po' prima se avessi saputo in quale luogo provocarla. La mia amica viveva in famiglia e rifiutava con energia di vercare la soglia di un albergo. Mi lambiccavo il capo per trovare un mezzo, un'astuzia, un'occasione. Presi al fine una risoluzione disperata, quella di farla salire una sera verso le undici nella mia cameretta con il pretesto di bere una tazza di tè. La signora Kergaran si colicava tutte le sere alle dieci. Avrei dunque potuto entrare con la mia chiave nella casa senza svegliare nessuno. Saremmo discesi allo stesso modo, un'ora o due dopo. Emma accettò il mio invito dopo essersi fatta un po' pregare. Trascorsi una brutta giornata. Non ero affatto tranquillo. Temevo complicazioni. Una catastrofe. Qualche spaventoso scandalo. Arrivò la sera. Uscì. Entrai in una birreria. Mandai giù due tazze di caffè e quattro o cinque bicchierini per infondermi un po' di coraggio. Poi me ne andai a fare un giro sul boulevard Saint-Michel. Sentii suonare le dieci, le dieci e mezzo e mi diressi a passi lenti verso il luogo del nostro appuntamento. Lei mi aspettava già. Mi dette il braccio. Procedette mollemente. Eccoci in cammino piano piano verso la mia abitazione. Via via che mi avvicinavo alla porta, la mia ansia cresceva. Pensavo. Purché la signora Kergaran se ne sia andata a dormire. Disse ad Emma due o tre volte. Mi raccomando. Non far rumore per le scale. E si mise a ridere. Hai tanta paura che ti sentano. No, ma non voglio svegliare il mio vicino che è gravemente malato. Ecco Saint-Pierre. Mi avvicino alla mia abitazione con l'angoscia con cui si va dal dentista. Tutte le finestre sono buie. Tutti dormono lì dentro. Non ci possono essere dubbi. Respiro. Apro la porta con le precauzioni di un ladro. Faccio entrare la mia compagna. Poi chiudo e salgo le scale in punta di piedi trattenendo il respiro e accendendo qualche fiammifero perché la ragazza non faccia passi falsi. Passando davanti alla camera della padrona sento il mio cuore battere precipitoso. Finalmente eccoci al secondo piano poi al terzo poi al quinto. Entro nelle mie stanze. Vittoria. Tuttavia non osavo parlare ad alta voce e mi tolsi gli stivaletti per non far rumore. Il tè preparato su un fornello a spirito venne bevuto sull'angolo del mio cassettone e poi diventà insistente insistente e a poco a poco come in un gioco tolsi ad una ad una le vesti alla mia amica che cedeva resistendo rossa confusa ritardando sempre l'attimo fatale e incantevole. aveva ormai addosso solo una corta camicola bianca e me quando la mia porta venne spalancata ad un colpo solo mi apparve la signora Kergaran con una candela in mano ed esattamente nella stessa tenuta di Emma. Avevo fatto un balzo lontano dalla ragazza e restai in piedi spaventato a contemplare le due donne che si scrutavano. Che cosa sarebbe successo? la padrona disse con un tono altero che non le conoscevo non voglio sgualdrina in casa mia signor Kergalan balbettai ma signora Kergaran la signorina è semplicemente una mia amica è venuta sua a prendere una tazza di tè la grossa donna replicò non ci si mette in camicia per prendere una tazza di tè fate sgombrare il campo immediatamente a questa persona Emma costernata cominciò a piangere nascondendo la faccia nella camicia io perdevo la testa non sapendo cosa fare né cosa dire la padrona giunse con un'irresistibile autorità aiutate la signorina a rivestirsi e portatela fuori immediatamente non potevo far altro assolutamente e raccolsi la veste caduta come un pallone sgonfiato sul pavimento poi la passai sulla testa della ragazzina e mi sforzai di abbottonarla d'accomodarla con una fatica infinita e mi aiutava piangendo sempre affannandosi cercando di fare in fretta commettendo ogni specie di errori non riuscendo più a trovare i lacci e gli occhielli e la signora Kergaran con la sua candela in mano ci illuminava impassibile ben dritta in una posa da giustiziere Emma adesso affrettava i suoi movimenti si copriva nervosamente stringeva nodi si appuntava spilli stringeva lazzi si abbottonava con furia incalzata da un imperioso bisogno di fuggire e senza neppure abbottonarsi gli stivaletti passò correndo davanti alla padrona e si slanciò giù per le scale la seguì in ciabatte seminudo ripetendo signorina signorina capivo perfettamente che dovevo dirle qualcosa ma non trovavo le parole la raggiunsi proprio sul portone e vogli prenderla per un brazzo ma quella mi rispose violentemente malbettando con voce bassa nervosa lasciami lasciami non toccarmi e fuggi per la strada sbattendo dietro la porta mi voltai la signora Kergaran era al primo piano e io risalì le scale lentamente aspettandomi di tutto pronto a tutto la camera della signora era aperta la signora Kergaran mi fece entrare dicendo in tono severo devo parlarvi signor Kerveran passai davanti a lei abbassando la testa e la posò la candela sul camminetto poi incrociando le braccia sul seno possente malcoperto dalla leggera camicola bianca mi disse così signor Kerveran voi avete preso la mia casa per un postribolo non possedevo molta fierezza in quei momenti ma no signora Kergaran morborai non dovete prenderla così sapete bene come sono i giovanotti lei rispose so che non voglio gente come voi a casa mia mi capite so che lo farò rispettare il mio tetto è la reputazione della mia casa mi capite so parlò per una ventina di minuti almeno affastellando ragioni e indignazione schiacciandomi sotto l'onorabilità della sua casa crivellandomi di rimproveri mordaci io uomo è proprio un curioso animale invece di ascoltarla la guardavo non sentivo più una parola neppure una parola lei aveva un seno superbo era gagliarda solida bianca tonda un poco troppo grassa forse ma così allettante da far scorrere brividi per la schiena non avrei mai pensato veramente che potessero esserci cose simili sotto la veste di lana della padrona pareva l'ingiovanita di dieci anni così mezzo nuda ed ecco mi sentivo così allegro tutto come potrei dire in subbuglio di colpo davanti a lei riassaporavo quella situazione interrotta poco prima nella mia camera e dietro di lei laggiù nell'alcova guardavo il suo letto era aperto sfatto rivelava con quel calco rimasto fra i lenzuoli il peso del corpo che vi si era colicato pensavo che là dentro si doveva star bene e al caldo più al caldo che in un altro letto perché più al caldo non so certo per l'opulenza delle carni che vi si erano riposate cosa può esserci di più conturbante e affascinante di un letto scomposto quello mi inebriava da lontano mi riempiva di fremiti la pelle lei continuava a parlare ma sommessamente ora parlava come un'amica schietta e benevola che vuol solo perdonare belbetai via via signora cargaran via e poiché stava zitta aspettando la mia risposta strinsi tra le braccia e presi a baciarla ma a baciarla come un affamato come un uomo che attende un avvenimento simile da un'eternità si dibatteva girava la faccia senza arrabbiarsi molto ripetendo meccanicamente secondo la sua abitudine oh canaglia canaglia ca non poté concludere la parola l'avevo sollevata con uno sforzo e la trasportavo stretta contro di me viene una gran forza via in certi momenti sbattei contro il bordo del letto e vi caddi senza abbandonarla ti si stava bene nel suo letto e bene al caldo un'ora dopo la candela si era spenta la padrona si alzò per accenderne un'altra e mentre tornava al mio fianco infilando sotto i lenzuoli la sua gamba tonda e robusta disse con voce languida soddisfatta riconoscente forse oh canaglia canaglia grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti